Buonasera, siamo qui al Naro Camp per presentare la decima giornata. Questa è la prima partita del girone A, si sfideranno Antico Borgo contro Mickey Mouse. Amico Andrea, cosa ne pensi di questa partita? Una partita molto equilibrata, è in pario il tapiro d'oro per entrambe le squadre. Il tapiro li sta prendendo ad entrambi ma vogliono cacciarlo. Scusa se ti interrompo, appena visto sul nostro computer la classifica. E a quanto pare se Mickey Mouse vince si mette a più uno, scavalca Antico Borgo. Palla per Mickey Mouse, che parte all'attacco, ancora Giustino Baiano, prende la palla. Vede libero, Saturiello, Salvatore, tenta a tiro, rette, 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 Mickey Mouse in vantaggio. Tuo pallone, sulla linea, ancora Tunnel, ancora Salvatore, che trova un'ottima giocata. Oreste, ancora palla per Salvatore, Salvatore, palla per Renato, Renato, tenta a tiro, rette, rette, rette. L'Innaro Camp è in delirio, Renato, 2-0 Mickey Mouse. Amoruso sul pallone, potrebbe tentare anche il tiro, lo fa, lo fa, Amoruso, 2-1 Antico Borgo, è il gol di Amoruso. Baiano, 3-1 Mickey Mouse, Baiano, firma il 3-1. È un grande Mickey Mouse oggi, vero Andrea? Non ti capisci, io è vero che la faccio schifo, ma no fino a questo punto, chi lo fa? Gol di Amoruso, che gol di Amoruso, ancora lui. Oreste, Oreste, ancora lui, palla dentro, Renato, rette, 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 Mickey Mouse, aumenta il vantaggio di Mickey Mouse. Prende palla, andrà numero 2 Dario, 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 sette il tiro, rette! Antico Borgo, e c'è il pareggio di Antico Borgo, con Dario il numero 2. Pippo, 6-4 Antico Borgo, capitano Valerio, vai, guarda Valerio, Valerio, gol! Splendido gol di Valerio, si risveglia! filtro, finì la fegbia! Sirio, personale! Tutto чаpele così! Ho formato a liberare il suo ultimo insegna di San Viclio! Dai, brava Kalouka, nel passato! Grazie a tutti.